Questo pomeriggio è il Roseto degli Abruzzi, questa mattina invece prima ad Avezzano in un'azienda metalmeccanica, poi all'Aquila nel centro storico martoriato dal sisma del 2009 e infine questa sera alle 19.30 a Montesilvano per chiudere il tour abruzzese del nuovo movimento politico fondato da Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, noi con Salvini. Sono lontani i tempi del celludurismo di Bossi e lontano il territorio di riferimento della Lega, Salvini cerca di allargare la sua base elettorale partendo proprio dal Mezzogiorno d'Italia e intercettandone la protesta. Qua ci sono tanti problemi causati dallo Stato, dall'Europa, da enti locali, dalla regione che non in grado di dare risposte e mi sorprende la richiesta, la presenza di migliaia di persone e sono contento. Ho incontrato, ho ascoltato e ho visto l'Aquila, ho visto l'Aquila dove è ancora troppo fermo, dove le imprese non sono pagate, dove ci sono ancora troppe case da costruire, troppi negozi vuoti. Quindi spero che spenti i riflettori la gente non si fermi. Mi ha stupito che ad esempio all'Aquila Renzi non si sia fatto vedere per un anno. Nel centro storico dell'Aquila c'è stata anche qualche contestazione, Salvini risponde così. Sì, c'erano tre persone che contestavano, ma il bello della democrazia è questo. La rottura del patto del Nazareno sembrerebbe dare spazio ad una reunion del centrodestra, Salvini dice sì, a patto che non sia il solito teatrino della politica. Sì, meglio tardi che mai. Avessero fatto un patto del Nazareno per cancellare la legge Fornero, gli studi di settore, aiutare le partite ive, sarebbe stato meglio. Invece per un anno si sono divertiti a parlare di legge elettorale. Vediamo se è finito, se è un teatrino. Vediamo.